Entra avanti di ruolo. La regina scopre quanto sia complicato sfondare il muro del Due Torri e ci sbatte contro. Da qui non si passa. Mister Venuto alza il ponte elevatoio, chiude gli spazi, si prende la scena, si guadagna la ribalta nazionale. Da domenica sera la difesa del Due Torri è la meno perforata d'Italia. Sono appena 8 i gol subiti dai siciliani in 19 giornate di campionato. Lo 0-0 del granillo si spiega anche così. Impossibile trovare Varchi per una regina sempre più spuntata e che finisce con rimpiangere Cristi Antiboni. La sua assenza pesa come un macigno sull'economia del gioco Maranto, un gioco fatto esclusivamente di lanci lunghi. Ecco uno dei limiti della regina attuale. Una regina lenta, prevedibile, senza idee e che per tutto il primo tempo soffre la maggiore organizzazione di un Due Torri che non si accontenta di distruggere, ma fa la partita con personalità. E il palo colpito da Giacobbe è lì a certificare la superiorità a ospite, anche perché della regina non c'è traccia. Il 4-3-3 disegnato da Cozza stenta ad accendersi. Squadra lunga, distanze siderali tra i reparti, l'unico a provarci e l'ultimo arrivato, Oggiano, che il mister getta subito nella mischia. Troppo poco per impensierire un Due Torri perfetto in fase difensiva. La mano di Antonio Venuto c'è e si vede e la sua squadra non si disunisce neppure quando Cozza, nella ripresa, ridisegna l'assetto tattico, arruolando Lavrendi, Bramucci e poi Carrozza. Sì, perché la regina quasi mai riesce ad alzare il ritmo della partita. Soltanto un episodio, allora potrebbe cambiare l'inerzia di una gara condizionata da un terreno di gioco impresentabile. E l'episodio potrebbe materializzarsi ad un niente dalla fine, quando il portiere ospite in grassia va a vuoto sugli sviluppi di un cross, spalancando di fatto la porta a forgione. La conclusione del numero 7 Amaranto tuttavia si perde sul fondo e l'ultimo sussulto di una gara da dimenticare. Il 2015 non poteva chiudersi peggio per mister Cozza, che si consola con l'ottima prestazione del giovanissimo difensore centrale Baciglieri, 17 anni e la personalità di un veterano. Il futuro è dalla sua parte, quello della regina invece passerà dalle prossime scelte di mercato.